Nel Consiglio Comunale di Radispoli è stato premiato Ibrahima Gueye, giovane attore, protagonista con Sofia Loren nel film La Verità davanti a sé. Il tredicenne accompagnato da suoi genitori, originali del Senegal da anni residenti a Radispoli, è stato applaudito dall'intero Consiglio Comunale, in primis dal sindaco Alessandro Grando, dal quale ha ricevuto una targa. La proposta di premiarlo è nata dal consigliere Giovanni Ardita che si è attivato per donare a una giovane promessa del cinema un premio alla sua interpretazione giudicata molto positiva dalla critica. La vita davanti a sé racconta la storia di Sofia Loren, un'aziana abrea ed ex prostituta che per sopravvivere gli ultimi anni della sua vita decide di ospitare nel suo piccolo appartamento una sorta di asilo per i bambini in difficoltà, soprattutto di mamme immigrate e clandestine che si vendono per strada per vivere. E tra questi vi è proprio lui, il protagonista insieme all'icona del cinema italiano, Ibrahima Gueye.